Bentornati. Non voglio annoiarvi con cose tecniche, con fattori che mi portano oggi a ripartire da zero. Non voglio annoiarvi con ciò che è accaduto sul perché sono sparito da tutte le piattaforme per motivazioni che non dipendono da me. E non voglio annoiarvi sul fatto che mi è stato strappato letteralmente il cuore, sul fatto che è stato a rischio un lavoro e che tutto questo mi ha fatto perdere soldi, mi ha fatto perdere possibilità. Non voglio annoiarvi con me. Perché se c'è una cosa che ho imparato da questa esperienza è l'importanza che ha questo microfono per me, potermi esprimere. Ma soprattutto il vuoto che si crea attorno a me quando non ho la possibilità di fare ciò che amo davvero, che non è una cosa che ho sempre sognato o che ho costruito col tempo, una cosa che ho scoperto recentemente. Quando ho iniziato a farla, ovvero parlare di canzoni, entrare dentro, parlare di vita attraverso queste canzoni. E allora, visto che siamo in un periodo sanremese, mi sembra opportuno parlare di canzoni che hanno in qualche modo accompagnato alcune edizioni. Canzoni che, io dico sempre, hanno fatto la storia, perché la storia siamo noi. Siamo noi che la viviamo. Fare la storia non vuol dire essere un tassello predominante a lungo. Vuol dire essere esistiti per qualcuno. E questo monologato podcast mi fa pensare al discorso che sto facendo, perché per diversi mesi è stata la realtà numero uno in Italia. La numero uno della recensione musicale è qualcuno di voi si è affezionato. E io ringrazio tutti voi che mi avete scritto in questi giorni davanti all'ingiustizia. Qualcuno aveva bisogno più di altri di me, me lo ha scritto. E io non voglio far nomi, però questo qualcuno voglio dire grazie di cuore, perché mi ha fatto capire quanto è importante, non per tante persone, ma per qualcuno, quello che faccio, ma proprio quello che rappresento. Cioè il mondo del podcast, una voce che ti sta vicino e ti aiuta a non sentirti solo. Una voce che è come quella che sentono certe persone quando si parla di malattia mentale, ad esempio. E io credo che nessuna canzone come questa qui di Simone Cristicchi ti regalerò una rosa, tratti la tematica con dolcezza, come questa appunto. È veramente toccante. Chiunque l'ha vissuto non può dimenticare quando Cristicchi è salito su quello sgabbello sul palco dell'Ariston e ha mimato il segno delle ali. Una canzone che già dall'arrangiamento, il testo, questo rap non rap, questo rap parlato, e poi questa melodia così dolce, suave, che ti tocca il cuore. È una tematica che ci racconta tutti, perché sì, sta parlando di matti, ma sta parlando di solitudine. E oggi abbiamo imparato ad essere soli. Anche quelli che magari erano un po' più festaioli, sempre a fuggire un po' dalla solitudine, in quest'epoca non hanno potuto fare a meno di ascoltarla. E quindi una canzone così è molto attuale. Perché, ora proviamo a sostituire la parola matti con la parola soli. Quindi i soli sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole. I soli sono aopostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo. E qui lui non a caso dice, la mia patologia è che son rimasto solo. Ora prendete un telescopio e misurate le distanze. Guardate, tra me e voi, chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto. Un amore che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi standi in cui ci sentivamo vivi. Non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare. Eri come un'ancora attaccata ad un termosifone. Nonostante tutto io t'aspetto ancora. Sento la tua mano che mi sfiora. Scusate se non ho il testo davanti. Ho cercato di improvvisare ciò che ricordavo. E questo è il motivo per cui sono qui. Perché voglio parlare di questa roba. Di canzoni come questa. Voglio cercare di essere un po' più vicino. È chiaro che faremo podcast più allegri. Podcast più forti. Ma in questo momento volevo donarvi la mia intensità. Volevo donarmi il mio cuore. Perché in una giornata ho perso tutto. Ho perso tutto. Ho perso il lavoro. Ho perso la voce. Ho perso il cuore. Ho perso la possibilità. Ho perso i soldi. Non ho mai avuto una lira. Per una volta che avevo due soldi. Molti li ho visti sfumare. Ho perso giorni di lavoro. Ma la cosa più preziosa era che avevo perso il contatto con voi. Con molti di voi l'ho perso. Perché il feed principale è andato. Quindi chi mi ascolta sono i fedelissimi se vogliamo. Ecco. A parte i contenuti più a iterazione. E spero di ripartire e di rinascere alla grande. Ma in ogni caso per un istante mi sono sentito libero. Per un istante mi sono sentito come quando Cristicchi muoveva le ali appunto. E allora ho messo in mente queste immagini. Allora ho voluto parlarne. Perché avevo perso tutto. Ma avevo ritrovato degli aspetti di me stesso che stavo perdendo. Perché io non voglio perdere l'intensità. Non voglio perdere la qualità. Voglio fare contenuti come quello che sto facendo. Col cuore. E con il contatto con certe emozioni. E quindi siamo qui a raccontare la storia. Se non sbaglio vinse il festival quell'anno. E lui è un artista molto particolare. Non ha fatto tantissime canzoni di successo. Ma tutte quelle che ha fatto ti lasciano il magone. Ti lasciano quella respirazione affannosa. Perché ti colpisce, ti tocca delle corde antiche. Lui non a caso viene dal teatro. Il direttore artistico. Del teatro dell'Aquila mi pare. Se lo è ancora. Comunque lo è stato. E artisti come lui. È normale che siano un po' scomparsi. Diciamo dalla nicchia. Perché ha fatto una scelta artistica. È andato dove lo ha portato il cuore. Dove lo ha portato l'esigenza. E l'esigenza ti porta lontano dal palco. Quello importante. Quello lì. L'arena di Verona. Quando però fanno Festival Bar. Che era il top Festival Bar. Ok. Quindi ho sbagliato esempio. Però quando fanno i concept televisivi del cazzo. L'esigenza ti porta anche nel teatro di provincia. Che oggi hanno chiuso. Che tristezza. Che tristezza. Viviamo in un'epoca senza teatri. Senza cultura. Quanto è importante il podcast. In un'epoca del genere. L'unica possibilità di fare cultura. Davvero. E allora io vi regalo questa rosa. Che è la mia parola. Perché credetemi non ho altro. Non ho altro da offrire. Non ho altro che possa essere a questo livello diciamo di umanità. Perché io sono una persona come tante. Piena di difetti. Forse è più difetti che pregi. Una persona che si fa prendere facilmente dall'ego. Dalla presunzione. Ma quando magari accendo questo microfono. E devo commentare certe canzoni. Allora riesco finalmente a riprendere il contatto con ciò che conta. La bellezza di un simbolo come un fiore. Sono queste le canzoni di cui voglio parlare. Le canzoni importanti davvero. Ti regalerò una rosa. Una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa. Una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa rossa che ti serva per dimenticare. Ogni piccolo dolore. Così voglio ripartire ragazzi. Con le lacrime agli occhi. Sperando che non ci separeranno più.